Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi andremo insieme alla scoperta di un mondo fatto di giochi di luce e colori, con la nostra ultima innovazione nel mondo del design e della moda. Tessiland vi presenta un'esclusiva collezione fatta di cristalli cucibili. Ogni prodotto è studiato non solo per garantire la bellezza, ma anche per assicurare qualità e resistenza. Andiamoli a scoprire insieme. Eccoli qui i nostri cristalli cucibili. Come vediamo sono disponibili in 5 diverse dimensioni e forme per adattarsi a ogni esigenza stilistica. Tutti i cristalli che andremo a vedere sono dotati di due fori per lato, così da avere una facile e sicura applicazione, sia che si scelga di cucirli su tessuti, sia che si scelga di utilizzarli per i bijoux. Ovviamente si tratta di un prodotto made in Italy che riflette quindi tutta la ricercatezza e l'artigianalità italiana. Tutti i cristalli sono in vetro austriaco con un castone in metallo nickel free. Il primo che vediamo è il cristallo goccia, disponibile nelle misure di 8, 10 e 13 mm. Abbiamo poi il cristallo rettangolare, con misure da 6, 8 e 11 mm. Il cristallo ovale sarà disponibile in due dimensioni, da 10 e da 15 mm. Il cristallo quadrato, disponibile nella misura da 6 e 9 mm. E per concludere centralmente il cristallo cerchio, disponibile in tre misure diverse, 5, 8 e 12 mm. Come abbiamo visto, i cristalli sono disponibili in diverse forme e dimensioni, quindi facile da adattare a diversi progetti. Pensate alle diverse applicazioni. Partiamo dagli accessori. Pensate magari a dei guanti o a dei cappellini, creati all'uncinetto o a maglia e arricchiti da questi punti luce. Ovviamente gli abiti da sera, ma anche capi più casual e adatti alla vita di tutti i giorni. Pensate ad esempio alle camicette. Pensate magari ai jeans. Potreste applicarli ad esempio sui bordi delle tasche o sulle felpe e pullover. Magari sui bordi dei cardigan e renderli così perfetti per ogni occasione. Quindi magari di giorno per dare un tocco di audacia ai capi più semplici e perfetti per la sera, per occasioni anche più eleganti. Ma non dimentichiamo l'accessorio per eccellenza, ovvero le borse. Pensate li applicati su delle pochette che siano queste create con tessuto, cordino o pensate ad esempio la lycra. Perfetti anche per accessori per la casa. Pensate ad esempio ai cuscini d'arredamento. Quindi non vi resta che scegliere. La dimensione e la forma che preferite e di iniziare a creare. L'unico limite sarà la vostra fantasia. Io vi aspetto al prossimo Tessilan News. Ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social. La pagina Facebook Meglio di Maya, ma anche il gruppo ufficiale Tessilan. Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog. Al prossimo Tessilan News!